Consigliere Testa, oggi avete premiato qui in Regione un'altra eccellenza dell'Abruzzo, il maestro Cavallone. Chi porta il nome dell'Abruzzo in giro per il mondo? Giustamente deve essere anche ricordato come in questi casi accade per il maestro. Esattamente, la forza e la grandezza di un Abruzzo, di una regione, in questo caso dell'Abruzzo, passa anche tramite le proprie eccellenze che possono essere derivanti dall'arte, la professionalità, la cultura. Paolo Cavallone è un musicista, un poeta, famoso in tutto il mondo, è uno dei grandi ambasciatori che l'Abruzzo ha nel mondo, è un grandissimo talento e quindi la politica, oltre ad interessarsi della quotidianità, deve sempre fare in modo che le proprie eccellenze vengano messe in risalto perché la storia, la cultura sono parte integrante del nostro Bruzzo. È una grande emozione perché appunto essendo abruzzese ricevere un riconoscimento dalla mia regione è un onore particolare perché essendo un musicista che viaggia molto e fa del viaggio una peculiarità importante della propria estetica perché penso che la contemporaneità è necessita di essere inquadrata da diverse prospettive. Essere abruzzese, essere legato alle proprie radici diventa un elemento importantissimo perché permette non solo di attraversare i colori della nostra società ma di penetrarli verticalmente, andare in profondità e allora che riescono dal cuore le montagne abruzzesi, i paesaggi nostri forti, i ruderi medievali delle nostre montagne, è il mare dell'Abruzzo.